Il presidente Rossi nel pomeriggio ha incontrato a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Michael Eisenberg, incontro cui ha preso parte anche il consule generale a Firenze, Benjamin Wallauer. L'ambasciatore ha ringraziato Rossi per il suo sostegno agli investimenti americani in Toscana, assicurando la collaborazione anche in futuro, per rafforzare la presenza delle imprese toscane negli Stati Uniti e viceversa. La visita di oggi, ha detto Rossi, conferma il buon rapporto che c'è tra la Toscana e gli Stati Uniti e non solo sul versante delle relazioni economiche. Ne sono testimonianze tra l'altro il numero dei turisti americani in Toscana, quasi un milione all'anno, degli studenti 8 mila e dei residenti circa 50 mila.